Iniziamo. Allora, buonasera, benvenuti a questo webinar. Come vi dicevo, questo è il primo webinar di un ciclo dedicato ad avere proprio degli aggiornamenti sui diversi fronti che riguardano la promozione delle competenze digitali della cittadinanza. Quindi in questo ciclo di webinar con il quale andremo avanti ogni martedì pomeriggio, sino al mese di luglio, vedremo insieme a partire dalla formazione online e quindi i materiali per la formazione online, la valutazione delle competenze digitali, i punti di facilitazione sul territorio, i progetti del PNRR e arriveremo sino a luglio e riusciremo anche a parlare del primo aggiornamento del piano operativo della strategia nazionale. Quindi questi webinar fanno parte del progetto ACEDI che rientra nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale. Come sapete abbiamo già programmato il secondo webinar del ciclo che quindi vi anticipo sarà martedì prossimo alla stessa ora e sarà sul tema della valutazione delle competenze digitali. Nel webinar di oggi di cosa parliamo? Avete visto? Parliamo del quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini, quindi il Digicomp che è arrivato alla versione 2.2 che è stata pubblicata nel mese di marzo. Quindi con i relatori di oggi vedremo proprio quali sono gli aggiornamenti che interessano il quadro europeo per le competenze digitali dei cittadini. Veniamo subito ai relatori di oggi. Avremo un'introduzione di Nello Iacono che è coordinatore del programma Repubblica Digitale che è col quale vedremo in particolare gli obiettivi del ciclo di webinar e di cosa parleremo in tutti questi incontri del martedì. Poi vedremo con Stefano Kluser che è un esperto di inclusione e competenze digitali. Vedremo in particolare le novità di Digicomp 2.2. Vedremo poi con Sandra Truia, esperta di competenze digitali. Invece in particolare l'uso di Digicomp per la creazione di moduli didattici sulle competenze digitali. E infine avremo l'ultimo intervento con Guido Scorsa che è componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Vedremo la consapevolezza dei cittadini su intelligenza artificiale, profilazione e dati. Come sempre vi ricordo che al termine del webinar è prevista una sessione di domande e risposte. Quindi potete porre in chat le domande che avete per i relatori e le riporteremo noi alla fine del webinar. Come sempre ancora sarà disponibile a partire da questo pomeriggio la registrazione del webinar su Eventi Pia insieme alle slide. A questo punto io mi taccio e do la parola a Nello Iacono. Prego Nello. Grazie Roberta. Faccio solo una breve introduzione prima di entrare nel merito appunto del webinar di oggi che ovviamente è centrato sul tema delle competenze digitali di base per come definite il Digicomp e soprattutto sui temi che in questa versione di Digicomp 2.2 sono stati introdotti, sono stati approfonditi proprio in relazione all'importanza che alcuni temi hanno assunto tra cui appunto il tema dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie emergenti in generale rispetto ai quali c'è una richiesta importante che deve essere ovviamente soddisfatta per far sì che le competenze della cittadinanza siano sempre più in diciamo in sintonia con l'evoluzione anche sociale ed economica. Noi ci troviamo in una condizione per quanto riguarda l'Italia ancora di come sappiamo di recupero da compiere i dati Eurostat 2021 ci indicano sicuramente un riscontro positivo sul cammino che ha intrapreso l'Italia ma anche con una lunga strada ancora davanti da percorrere. Il dato che è stato registrato appunto nelle rilevazioni ultime di Eurostat e che saranno da base per il DESI 2022 sono quelle che vedono al 46% la popolazione con competenze digitali almeno di base secondo una rilevazione che ancora di più si è avvicinata al modello Digicomp e quindi guardando a tutte e cinque le aree di competenza come vedremo di Digicomp però ci porta appunto a una situazione in cui ancora la maggioranza della popolazione non ha le adeguate competenze digitali e questo diciamo così è sicuramente un dato su cui bisogna lavorare nel piano operativo di attuazione della strategia per le competenze digitali abbiamo fissato come obiettivo del 2025 e poi un 70% di popolazione con competenze almeno di base ed è un obiettivo ambizioso ma è pienamente in linea con gli obiettivi che si è posta alla Commissione Europea. Un dato che può essere valutato appunto nella logica di progressione che sta facendo l'Italia è che su alcune aree di competenza le percentuali di popolazione che hanno competenze digitali di base è maggiore del 70% questo è ad esempio il caso dell'area di competenza relativa all'alfabetizzazione informativa e sui dati di cui poi si parlerà in maggior dettaglio però aver superato il 70% su quell'area e ancora di più su altre aree come quella del problem solving fa pensare che appunto è molto un problema ma in gran parte un problema di diciamo sia di ampiezza organicità delle competenze che devono essere acquisite ma comunque lungo un percorso che si sta lentamente insomma permettendoci di portarci nella condizione auspicabile in cui appunto la maggior parte della popolazione possa godere delle opportunità dei benefici del digitale dei servizi digitali essendo consapevoli ovviamente dei limiti dei rischi che sono intorno diciamo a questo passaggio a questa transizione verso quella che il filosofo Flory chiama dimensione online in tutto questo in questo percorso appunto come diceva inizialmente Roberta stiamo portando avanti anche un aggiornamento del piano di attuazione della strategia che presenteremo in uno degli ultimi incontri del ciclo di webinar e che appunto pensiamo possa fotografare appunto una situazione in cui effettivamente le azioni sia da parte istituzionale pubblica sia da parte del privato del terzo settore che sta dando tantissimo in questa direzione possono effettivamente consentirci di fare quei progressi anche dal punto di vista non soltanto di consapevolezza digitale ma anche di impiego delle tecnologie del digitale che permetta all'Italia di essere protagonista anche in questa nuova in questa nuova evoluzione diciamo su cui in cui stiamo agendo in cui stiamo lavorando il Digicomp è per noi fondamentale chiave come base di tutte queste azioni perché permette appunto di definire nella sua ampiezza cosa si intende per competenze digitali e competenze per la cittadinanza ma anche perché nei suoi livelli più elevati di padronanza permette già di andare su quel fronte delle competenze avanzate che sono quelle che ovviamente sono sempre più importanti per il mercato del lavoro, per l'orientamento quindi anche professionale dei giovani ma anche di coloro che appunto devono fare anche una una riqualificazione, una revisione, un aggiornamento delle proprie competenze per poter essere pienamente attivi nel nel nuovo contesto. Dall'altra parte è importante la conoscenza di Digicomp perché ci permette appunto di far sì che via via iniziano inizino ad essere sviluppate quelle professionalità come quella del facilitatore digitale che diventa sempre più importante non soltanto per supportare coloro che in questo momento hanno competenze digitali basse e quindi non riescono a utilizzare al meglio la rete e i servizi ma anche perché siamo entrati in una logica in cui ci sarà sempre bisogno di formazione, ci sarà sempre bisogno di agevolare l'inclusione da parte sia delle categorie più svantaggiate ma in generale di tutta la cittadinanza. Quindi il profilo del facilitatore digitale diventerà sempre più importante, un profilo che abbiamo previsto nei due progetti che insistono sul tema delle competenze digitali di base, il servizio civile digitale e il potenziamento della rete dei servizi di facilitazione digitale. Questa è sicuramente la base e poi nel percorso dei prossimi webinar andremo ad affrontare tutti quei temi che sono collegati e che si rivolgono ovviamente sia a chi può essere semplice utilizzatore di questi strumenti e dei temi che affronteremo ma anche ovviamente coloro che a livello professionale possono dare il loro contributo. Anche inizieremo da oggi a vedere appunto l'utilizzo di Digicomp anche per insegnare e quindi come può essere una base fondamentale e importante per le nostre evoluzioni e per centrare quell'obiettivo che pensiamo sia centrale per una vera trasformazione digitale ma anche per riuscire a mantenere la corretta, il corretto livello di inclusione e il dialogo democratico. E in questo senso appunto il lavoro che anche vogliamo sostenere nella sua diffusione, nella sua evoluzione di Digicomp diventa fondamentale perché l'obiettivo appunto è consapevolezza digitale diffusa e per tutti. Ho parlato anche troppo e vi ringrazio e andiamo con gli interventi successivi. Grazie Roberto. Perfetto, grazie Moltenello per aver inquadrato il tema nell'ambito proprio dei singoli temi che poi affronteremo ma soprattutto di qual è l'obiettivo finale di tutto questo lavoro. E a questo punto vediamo con Stefano Kluzer le novità di Digicomp 2.2. Prego Stefano. Eccomi. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vedete la presentazione? Sì, la vediamo. Perfetto. Allora, io farò una carellata, diciamo così, sulle novità del Digcomp, che sono tante, non posso ovviamente vederle tutte e soprattutto vederle approfonditamente. Prima di iniziare però abbiamo pensato di sottoporvi due domande che servono così, anche per capire un attimo che livello di esperienza avete voi del framework in generale e quello che già sapete eventualmente del Digcom.2. Facciamo questo esperimento con un sondaggio Zoom e credo che avete, diciamo, due o tre minuti per rispondere. Sono due domande molto semplici. Vediamo il risultato. Faccio un breve commento e poi entro nel merito della presentazione. Le domande, la prima è che esperienza hai del framework Digcomp? Potrebbe essere scarsa o nessuna, per me è una novità. Lo conosco in quanto ho seguito seminari, webinar, corsi sulle precedenti versioni del framework. Oppure la terza opzione è che ho avuto anche modo di utilizzare questo framework in ambito professionale per varie attività. Potrebbe essere creare un'offerta formativa, un percorso di valutazione della competenza, eccetera. Questa è la prima domanda. E la seconda, in base alle informazioni che hai in questo momento, l'aggiornamento del Digcom 2.2 ha modificato i livelli di padronanza, ha modificato il numero delle aree di competenze, ha aggiornato la loro denominazione, è focalizzato sulla dimensione 4 del framework. Gianluca, lascia a te ovviamente di gestire il feedback. Stefano, al momento hanno risposto oltre 130 partecipanti. Va bene. Quindi direi che quando vuoi possiamo terminare il sondaggio. Terminiamo il sondaggio, vediamo il risultato. Sì. Ok. Ah, per la maggior parte è una novità. Ok. No, buono, interessanti le risposte. Questo incontro è utile. Benissimo. E allora, entriamo nel merito. Vediamo intanto l'origine e qual è stato il percorso di aggiornamento del Digcom. L'origine è detto rapidamente, le competenze digitali sono una priorità, ovviamente, da qualche anno nell'agenda europea, delle politiche europee. In particolare, il piano d'azione sull'educazione digitale 2021-2027 ha tra le sue azioni prioritarie la numero 8, indicato la necessità di fare un aggiornamento del framework europeo delle competenze digitali. E viene citato esplicitamente con l'obiettivo di includere i temi, gli elementi che riguardano l'intelligenza artificiale e abilità relative ai dati, alla gestione dei dati. Sulla base di questo input, l'aggiornamento dei framework delle competenze da qualche anno viene portato avanti a livello europeo dal centro comune di ricerca, in particolare la sede di Siviglia, che è il luogo dove è stato creato il Digcom, ma anche altri framework delle competenze. E quindi il GRC di Siviglia ha preso in mano questo mandato, ha chiesto la collaborazione della comunità di pratica, la chiamiamo COP, Community of Practice, della Digcom, che è ospitata sulla piattaforma europea dell'associazione All Digital. Qui sotto vedete l'indirizzo per iscriversi, se siete interessati. E quindi su questa piattaforma, che è una piattaforma di collaborazione, sono stati attivati 12 gruppi di lavoro tematici che hanno visto il contributo di oltre un centinaio di esperti. Vedete nella parte destra della slide i ringraziamenti con l'elenco di tutti. Quando vedrete il Digcom potete andare a curiosare chi sono stati quelli che hanno partecipato a questa operazione. Il percorso di lavoro è durato più di un anno. Siamo partiti nel dicembre del 2020 con l'annuncio sulla Community of Practice dell'avvio di questo processo. Adesso non entriamo nel merito, nel dettaglio. Diciamo che c'è stata una fase di consultazione iniziale in cui è stato chiesto agli esperti e ai partecipanti di mettere in evidenza i requisiti che cambiamenti in atto nel mondo del digitale, nuove tecnologie, nuove applicazioni, nuove pratiche d'utilizzo e così via, i requisiti in termini di competenze che sollevano nei confronti dei cittadini. E poi da questi requisiti si è cominciato a lavorare su esempi di conoscenze, abilità e attitudine che possono rispondere a soddisfare questi requisiti. È stato fatto un lavoro, come ho detto prima, divisi per gruppi. Sono stati fatti durante il percorso diversi seminari tematici. A settembre c'è stato un workshop internazionale dove è stato sottoposto da alcuni interlocutori della Commissione Europea, in particolare UNESCO, che ha adottato già da alcuni anni il DICOM come un framework di riferimento, ma anche la Banca Mondiale e altri organismi internazionali. Sono stati sottoposti queste idee, le prime idee su quali potevano essere questi esempi di knowledge, skills and attitude, quindi conoscenze, abilità e attitudini, per sentire la loro opinione. È stata poi fatta un'operazione di validazione online tramite un questionario aperta praticamente a tutti. Verso dicembre abbiamo chiuso questa fase e tra dicembre e marzo è stato scritto il report e pubblicato. Quali sono le novità del DICOM 2.2? Allora, cosa significa essere digitalmente competenti? Riprendo questa slide che usa l'amica collega Rina Vuoricari, perché è molto carino il bambino con il cappellino in testa, con questi scalini da salire, che sono alti, tanti, fanno un po' impressione. Competenza digitale, nella definizione che è stata data dal Consiglio europeo nella raccomandazione sulle competenze chiavi per l'apprendimento del 2006, aggiornata nel 2018, dice che la competenza digitale implica due cose. Intanto un interesse per le tecnologie e poi ovviamente anche un utilizzo e qualifica questo utilizzo con tre caratteristiche. Deve essere un utilizzo con dimestichezza, con confident, la parola in inglese. Quindi sicuro, ma sicuro nel senso del mi sento a mio agio, ce la so fare. Spirito critico, quindi una visione non semplicemente utilitaria dello strumento, ma una visione critica del suddivizzo, del contesto e così via, e con senso di responsabilità, perché oramai con il digitale si fanno tante cose e bisogna essere responsabili nel momento in cui si usano questi strumenti. Per quale attività? Apprendere, lavorare e partecipare alla società. Cioè sostanzialmente quasi tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Nella visione europea, proposta dal DICOMP, la competenza digitale ha superato una visione tradizionale che vedeva l'abilità, chiamiamola informatica digitale, come il saper padroneggiare degli strumenti, dei software fondamentalmente, delle applicazioni, ma ne ha dato una visione, come vedete, più articolata, più spessa, più complessa. E la competenza digitale, ma in generale la competenza, viene vista come il risultato di tre elementi. Conoscenze, che possono essere conoscenze teoriche, o anche delle conoscenze pratiche, operative, delle abilità, un saper fare, e poi delle attitudini che sono un elemento chiave per determinare poi l'effettivo pratica che uno ha, che fa con gli strumenti digitali. Allora, poiché molti di voi non conoscono bene il DICOMP, è importante, per capire dove sta la novità, fare riferimento alle cinque dimensioni del framework. Il framework definisce le cinque dimensioni della competenza digitale in questo modo. La dimensione una è semplicemente il nome dell'area di competenza, e le aree di competenza sono cinque. La competenza digitale viene nel DICOM vista come strutturata su cinque aree di competenze. La dimensione due descrive il titolo e il descrittore, propone il titolo e il descrittore delle competenze specifiche, che sono ventuno. Quindi in queste cinque aree ci sono ventuno competenze, che sono divise in modo variabile. Nella prima aree ce ne sono tre, nella seconda ce ne sono sei, nelle altre quattro, quattro e quattro. C'è poi la dimensione tre, che sono i livelli di padronanza. Originariamente i livelli erano tre, base, intermedio e avanzato, e con la versione 2.1 del DICOMP, la padronanza è stata articolata su otto livelli. Ci sono poi gli esempi di conoscenza, abilità e attitudini, la dimensione quattro, e infine la dimensione cinque, che di nuovo propone in realtà degli esempi, ma in due scenari di applicazione, due scenari, diciamo, contesti d'uso della competenza, uno l'apprendimento e l'altro un contesto di lavoro. In sintesi, quali sono quindi le novità del DICOMP 2.2? Non è cambiato niente nei titoli e dei scrittori, praticamente di tutte le dimensioni, salvo la quattro. Cioè la uno, due, tre e cinque sono rimasti invariati. Vedete sulla destra della tabella, sono i titoli delle cinque aree e delle ventuno competenze. Non stiamo a leggere perché non ha molto senso. L'elemento di novità vero del DICOMP 2.2 sono gli esempi di conoscenza, abilità e attitudine. Adesso uso l'acronimo KSA, Knowledge, Skills and Attitude, che è più semplice anche per scriverlo, che è la dimensione quattro del quadro di riferimento. C'è poi una, è stata fatta una raccolta di risorse legate all'applicazione del DICOMP. Negli ultimi anni sono stati fatti diversi studi e sono stati sviluppati anche degli strumenti basati sul DICOMP e si è ritenuto utile raccoglierli, perché le persone sanno e non sanno che esistono, quindi raccogliere all'interno delle report in cui viene presentato il quadro aggiornato. Il quadro aggiornato, per adesso vedremo, sta nel capitolo due. Ci sono poi altri due capitoli dove vengono toccati due aspetti importanti che sono i diversi framework sulle competenze chiave e come si intrecciano tra di loro. Le competenze chiave, appunto, non sono solo la competenza digitale, c'è la competenza imprenditoriale, c'è le competenze linguistiche, alfabetiche, ci sono le competenze che si chiamano personali, sociali, il saper imparare e altre. Quindi queste competenze, viene detto esplicitamente nella raccomandazione del Consiglio, sono tra loro strettamente intrecciate, quindi è importante anche quando le si affronta guardare l'intreccio tra questi elementi. e poi questo è l'elemento, come dicevo già prima, che è stato sottolineato addirittura nel documento che ha dato il via a questo aggiornamento, l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un allegato, l'allegato 2 del report, che fa un approfondimento su questo. Il BICOM 2.2 è stato colto come occasione per aggiornare, diciamo così, un po' i tematismi del DICOMP, perché i descrittori dei titoli, delle competenze, i descrittori delle singole 21 competenze, quando li vedrete, se li conoscete, sapete che sono abbastanza generici. Quindi di che cosa si parla veramente nel framework, di solito viene chiarito, soprattutto appunto tramite gli esempi della dimensione 4 e della dimensione 5. Quindi è stata l'occasione per fare questo aggiornamento e qui riporto alcuni dei temi principali che sono stati trattati con questi esempi. Quello della disinformazione e misinformazione e le problematiche di fact-checking, di contenuti e fonti, per cercare di superarli. È un tema molto conosciuto, l'abbiamo vissuto tutti, di lavoro remoto, smart working, è chiamato lavoro remoto, e poi ibrido in realtà, perché si sta andando verso una forma stabile, diciamo, di lavoro che vede un misto di lavoro d'ufficio e lavoro a distanza. L'evoluzione che è massiccia in questo momento di quello che si chiama con un termine inglese un po' brutto, dataficazione, di servizi e applicazioni, e ci torniamo dopo su questo, è lo sfruttamento dei dati personali. Il tema dell'accessibilità digitale, e anche su questo ci tornerò, perché è un elemento di novità importante del DICOMP 2.2, come responsabilità di tutti, non solo dei tecnici. Un tema già presente, però è stato ripreso e approfondito nel DICOMP 2.2, che è quello della sostenibilità ambientale e sociale, delle tecnologie. Quello del benessere, della sicurezza negli ambienti digitali, che stanno diventando sempre più importanti, data la pervasività di questi strumenti nella nostra vita. E infine, l'interazione dei cittadini con l'intelligenza artificiale. Su tre di questi temi, e sono stati fatti dai gruppi di lavoro degli approfondimenti, e è stata fatta la scelta per, diciamo, dunque nel rapporto finale abbiamo deciso, per una questione anche di lunghezza, di limitare il numero di esempi a 15, massimo 20, per singola competenza. In alcuni casi ne erano venuti fuori molti di più, per cui si è deciso, su, in questi casi, di fare degli approfondimenti. Vedete, ci sono due legati, uno sull'intelligenza artificiale con 73 esempi, di cui 35 che sono riportati, diciamo, nel capitolo 2, quello del framework, però ci sono anche gli altri. Sul lavoro remoto ibrido, nel capitolo 2, si trovano quattro esempi, quattro esempi, negli altri, nell'allegato 3, ce ne sono 12, e segnalo la programmazione informatica, di cui nel capitolo 2 ci sono riportati 15 esempi all'interno, ovviamente, della competenza 3.4, che si chiama proprio programming, programmazione, ma il gruppo di lavoro ha fatto un lavoro molto interessante di approfondimento della cosa significa competenza sulla programmazione per un cittadino qualunque, quindi non tanto un qualcuno che poi deve mettersi a fare il programmatore, e hanno pubblicato un articolo che è citato e linkato dall'interno del report. Come si presenta questo famoso capitolo 2? Il capitolo 2 è un po' il cuore di questo rapporto del DICOM 2.2, ed è stata fatta un'operazione secondo noi utile di cercare di mettere insieme gli elementi delle, anche delle precedenti versioni del DICOM. Quindi c'è, come vedete, a sinistra ogni area, che è la dimensione 1, ha un suo colore che ricorre in tutte le sue competenze specifiche, che vedete, 1, information and data literacy, 1, 1, browsing, ricerca, filtro dei dati, e così via. Ci sono poi la colonna centrale che le gradazioni di colore rappresentano i livelli di padronanza, quindi quelli della dimensione 3, che erano esplicitati, presentati, sono stati presentati nel 2.1, il precedente DICOM. C'è poi la parte di novità, il palino rosso evidenzia questa la dimensione 4, dove vengono presentati, segmentati per tipologia, gli esempi di conoscenza, abilità e attitudine. Alcuni di questi, quelli sull'intelligenza artificiale, sul lavoro remoto, l'accessibilità, sono evidenziati con l'acronimo che li riguarda. Vedete poi c'è anche un'icona che serve per rappresentare gli esempi, libro per le conoscenze, la bicicletta per le abilità e il cuore per le attitudini. Infine, nell'ultima colonna, abbiamo gli scenari di applicazione e vedete che c'è una freccetta che collega gli esempi riportati nei due scenari dell'apprendimento e del lavoro, li collega al livello di padronanza. quegli esempi fanno riferimento a quel livello di padronanza. Come si riconoscono gli esempi? Da una parte ho già parlato delle concine, abbiamo fatto poi uno sforzo sulla scelta delle parole. Quindi, gli esempi di conoscenza tipicamente, adesso io ho fatto la traduzione in italiano che ancora non esiste e non esiste e tra l'altro vi anticipo, colgo l'occasione per dire che un gruppo di lavoro guidato da Sandra Toria che parlerà dopo di me è proprio nato intorno alla community of practice, alla Coop del DICOMP, ha preso in mano l'operazione della traduzione in italiano del 2.2 e soprattutto di questo capitolo nuovo. Per cui, ancora non è stato come dire ufficializzata questa cosa, però le conoscenze tipicamente cominciano con un sa che e a conoscenza di qualcosa conosce il questo o questa cosa o quell'altra cosa capisce che e così via le abilità tipicamente iniziano con un sa come si fa sa come fare in grado di e capace di le attitudini che rappresentano valori, aspirazioni, priorità ovviamente è stato più difficile renderle omogenee sono molto più varie e troverete delle espressioni tipo è aperto è curioso su un certo argomento si preoccupa però di qualcosa e così via. cosa sono e cosa non sono gli esempi del del DICOM 2.2 allora come ho detto ce ne sono 10 e 15 da 10 a 15 per ciascuna delle 21 competenze e sono pensati questo è molto importante come ausilio fonte di ispirazione per identificare delle priorità tematiche per aggiornare delle proposte formative e strumenti di valutazione non sono questo è detto molto chiaramente anche nel nel documento non sono una lista esaustiva dei contenuti di una specifica competenza o di un particolare tematismo questo faccio un esempio subito dopo proprio per farvi capire in che senso non definiscono i livelli questi esempi non definiscono i livelli di padonanza i livelli di padonanza li vedete nella dimensione 3 anche se alcuni esempi sono più complessi di altri ovviamente e non sono una checklist che uno può prendere così come è fatta ed usarla per valutare la competenza o creare dei percorsi di autoriflessione sui temi della disinformazione parlerà poi dopo sanatoria sull'intelligenza artificiale e i dati dovrebbe se sarà presente guido parlarne guido scorza quindi salto questa parte e volevo portarvi appunto ho scelto questo ma potevo scendere le altre ma perché l'avevo trovato mi era piaciuto diciamo come caso uno dei tanti esempi che si potrebbero fare allora nel DICOMP 2.2 si citano a un certo punto lo vediamo fra un momento le tecnologie indossabili cosiddette wearable che sono collegate al fatto che questi wearable questi dispositivi raccolgono dati su di noi che possono essere usati anche per la salute personale la dataficazione è di fatto appunto la trasformazione progressiva sempre maggiore di aspetti della nostra esistenza in dati che vengono raccolti archiviati in database poi vengono elaborati sempre più spesso con tecniche di intelligenza artificiale per generare informazioni che possono essere utili a fini commerciali di sicurezza e questo è il caso che volevo presentarvi per la salute e il benessere questa immagine che ho ripreso dall'Economist del se quantificato da in maniera molto efficace l'idea di quello che sta succedendo allora di questo di questo argomento nel DECOMP se ne parla se ne parlava già da prima cioè c'è la competenza 4.3 del DECOMP nell'area sicurezza l'area 4 che si intitola proprio proteggere la salute e il benessere i descrittori di e gli esempi che erano portati in passato per questa competenza davano una visione quasi esclusivamente protettiva dell'argomento cioè come l'operaldo dice il titolo proteggere la salute e il benessere quindi un'idea del difendersi dai dati dai danni scusate alla salute psicofisica che possono derivare dall'uso del digitale ecco nel DECOM 2.2 sono stati introdotti due esempi che parlano proprio delle digital health applications quindi l'esempio 191 che dice sa che molte applicazioni per la salute digitale non sono soggette a procedure ufficiali di autorizzazione diversamente da quanto accade con la medicina tradizionale quindi abbiamo di nuovo c'è una novità tecnologica di cui si sottolinea il famoso punto di vista critico del DECOMP sul digitale si sottolineano gli aspetti potenzialmente problematici il fatto che ci sono applicazioni adesso ne vedremo quante fra un momento che vengono messe sul mercato e nessuno mentre con una qualunque farmaco o medicina diciamo ufficiale viene sottoposta come ben sapete a innumerevoli controlli nel caso di queste nuove app che sono usate anche per incidere direttamente sulla salute questo per il momento avviene poco o spesso per niente l'altra l'esempio 192 dice sa che esistono applicazioni digitali ad esempio che possono utilizzarsi sullo smartphone che possono promuovere comportamenti salutari monitorando e allertando l'utilizzatore sulle sue condizioni fisiche emotive e psicologiche tuttavia alcune azioni o immagini proposte da queste applicazioni potrebbero avere anche un effetto negativo sulla salute fisica o mentale ad esempio guardare immagini ideali idealizzate del corpo umano può generare generare ansia quindi di nuovo questo è un esempio che da un lato nella prima parte rimanda all'importanza di essere consapevoli del fatto che comunque ci sono oggi questi strumenti che possono essere utili dall'altra di nuovo dice attenzione vanno usati con le dovute cautele o comunque consapevolezza perché potrebbero anche generare degli effetti negativi e stiamo parlando di un fenomeno molto importante l'articolo dell'Economist appunto da cui ho preso quell'immagine parla di una tecnologia o mercato che sono in rapidissima crescita ci sono degli studi che sono stati fatti hanno identificato 390 orologi anelli smart dei tracker di fitness cinturini cerotti altri tipi di wearable potenziati elettronicamente grazie ai quali sono stati identificati 1200 pensate sensori che possono registrare oltre 7500 variabili fisiologico comportamentali di questi dispositivi ne sono state venduti 200 milioni nel 2020 è previsto che si arriverà a 400 milioni che il mercato raddoppierà al 2026 stiamo parlando di un mercato che vale 29 miliardi di dollari quindi la metà circa del valore del mercato dei prodotti sportivi a livello mondiale quindi stiamo parlando di un fenomeno che sta già diventando di massa negli Stati Uniti il 25% degli abitanti dispone di uno di questi dispositivi le applicazioni che si possono fare da questi dispositivi sono innumerevoli vanno dalla diagnosi precoce di vari problemi per esempio con con le applicazioni da smartphone si possono misurare diciamo rilevare dei dati sulla fibrillazione atriale del cuore che è la causa del 25% degli ictus per esempio in Inghilterra si possono avere delle personalizzazioni dei suggerimenti personalizzati per quanto riguarda le pratiche alimentari consumi farmacologici e comportamenti per esempio esci e cammina fare un po' di movimento che sono molto importanti per la prevenzione e il trattamento di malattie croniche e vengono usati anche per la sperimentazione di nuovi farmici e osservazioni pediomologici l'articolo dell'economist racconta un'esperienza molto interessante fatta durante il covid in Germania in cui 300.000 cittadini hanno messo a disposizione di una università i dati che rilevavano dei loro dispositivi e sono venute fuori delle cose più varie però ecco questo è un esempio questa qui è una nuova opportunità tecnologica come vedete anche con dei potenziali impatti molto importanti sulla vita sulla salute e sui nostri comportamenti quotidiani ma che aprono problemi c'è al momento una qualità estremamente variabile dei dispositivi che danno di conseguenza affidabilità dei risultati si sta sviluppando un sistema di certificazione per garantirne la qualità ma ancora è relativamente sono poco diffusi ci sono 400.000 app negli store di Google e Apple che servono per questo tipo di applicazioni molto diverse tra di loro per tutela della privacy per la user experience che consentono di fare e anche in termini di evidenza che effettivamente funzionino e importante da notare soltanto 40 app sono state approvate dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti che è l'organismo deputato a certificare farmaci e altre cose che hanno a che fare con l'alimentazione e la salute dal 2017 ad oggi ovviamente poi ci sono numerose implicazioni su un possibile uso improprio dei dati raccolti pensate per esempio da società di assicurazione o dall'uso che possono fare le aziende in un processo di reclutamento dei nuovi dipendenti questo per dire che perché vi ho fatto questo approfondimento su un caso così specifico allora nel DICOM 2.2 trovate due esempi che aprono una finestra su un tema che ho cercato di farvi vedere è un tema molto grosso molto importante quei due esempi chiaramente non esauriscono il tema però lo accennano e quindi sollecitano a prestare attenzione e occuparsene l'accessibilità digitale che è un tema molto sentito che è stato preso di petto diciamo nel DICOM 2.2 da due punti di vista da una parte il DICOM 2.2 stesso in particolare il capitolo 2 che è quello che contiene tutti diciamo il framework integrato è stato fatto in una versione che è disponibile ovviamente solo nella versione digitale online non nella versione stampata in modo totalmente accessibile agli screen reader e vi assicuro non è stata un'esperienza facile noi stavamo producendo il report con tutta la sua bella grafica eccetera eccetera questi amici spagnoli che sono un gruppo di ricerca che lavora su queste cose ci hanno detto questo che state facendo non è per niente accessibile agli screen reader bisogna metterci mano ed è stato un lavoro molto impegnativo sia per noi per la grafica che lavorava sulla produzione del report e alla fine come vedete è venuto fuori questa immagine quella che vi ho fatto vedere prima dell'1.1 vedete che è priva diciamo così di elementi di elementi grafici ma è molto attenta a tutti gli aspetti di struttura ci sono tutto ovviamente anche tutta una serie di codici nascosti che vengono letti dagli screen reader per qualcuno che non è in grado di leggere autonomamente un testo ma non solo di sull'accessibilità digitale sono stati introdotti undici esempi che vedete citati qui ho messo il numero e tra parentesi la competenza specifica dove sono stati collocati quindi è stato un argomento affrontato in maniera abbastanza approfondita ecco per concludere sull'uso del framework cosa significa usare i framework qui cito una mia cara amica ex collega che tuttora lavora a Jersey ed è l'autrice tra l'altro dell'Entricomp si chiama Margherita Bacigalupo e che ha scritto un articolo che uscirà domani su questa rivista che troverete lì trovate il link cercate il titolo Margherita sta lavorando ha lavorato da un anno e mezzo al Jersey per cercare di capire come in una prospettiva educativa integrare come chi deve usare questi framework li può utilizzare e quindi ci ha ragionato molto non soltanto su DigCom sull'Entricomp sull'IfeComp l'GreenComp e così via e questo articolo che vi raccomando parla di come usare i framework di competenza come come strumenti di orientamento e lei fa questa 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 similitudine dice i framework sulle competenze come le costellazioni che vediamo diversamente nelle stelle dell'universo e qui sono riportate due visioni una è quella astronomica occidentale e l'altra è la visione astronomica araba se adesso non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio ma se le guardate con attenzione vi accorgerete che ci sono molte cose simili ma molte cose anche diverse e comunque i framework sulle competenze sono delle rappresentazioni consensuali non sono un dato di realtà sono un accordo che viene preso tra chi si occupa di queste cose in questo caso sono delle rappresentazioni dell'universo che è quasi infinito dice giustamente Margherita come le stelle nel cielo delle conoscenze abilità attitudini che servono negli ambiti chiavi della nostra esistenza e che come le costellazioni aiutano a capire vengono usate per capire dove siamo e ad orientarci nella navigazione verso una meta quindi la meta può essere adottare un linguaggio comune che serve per esempio per collegare il mondo dell'istruzione al mondo del lavoro insegnare o apprendere le competenze riconoscere l'apprendimento pregresso valutare i livelli di competenza dimostrare i progressi che uno fa in un processo di apprendimento fino ad arrivare eventualmente a certificare i livelli di competenza stessi i framework sulle competenze non sono questa è una cosa importante dirla perché spesso la gente se lo dimentica vede un documento prodotto dall'Unione Europea e dice perfetto questo è lo standard non sono i framework di competenza che ha prodotto la Commissione Europea non sono degli standard quindi non sono degli oggetti vincolanti da prendere e da applicare la lettera sono dei quadri di riferimento di orientamento volutamente con un carattere generico e esemplificativo che vanno quindi interpretati e adattati in funzione di obiettivi target cioè utenti e contesti dove vogliono essere devono essere applicati ho citato per rafforzare questa considerazione proprio dal diccomp dal primo diccomp questa frase che è molto esplicita al riguardo che dice il carattere ampio apparentemente esaustivo della proposta del diccomp riflette la complessità della competenza digitale che oggi riguarda molti aspetti della vita quotidiana e se questo è sicuramente un suo valore aggiunto è anche vero che non tutti i cittadini studenti utilizzatori saranno interessati a sviluppare tutte le competenze qui elencate e quindi compito di utenti istituzioni intermediari e chiunque avvii iniziative in questo campo di usare il diccomp adattandolo ai loro bisogni e non prendendolo come fosse orocolato da prendere e da applicare e questo principio questo concetto viene riproposto anche nel diccomp 2.2 dove si dice che i nuovi esempi di knowledge skills and attitude non devono essere visti come un insieme di obiettivi di apprendimento che tutti i cittadini devono raggiungere sono degli spunti sono degli indicatori che puntano ci dicono questi sono argomenti potenzialmente da affrontare di interesse oggi ma dipende ovviamente con chi lavori per supportare questo lavoro diciamo anche creativo la commissione europea ha prodotto delle risorse utili per applicare il diccomp che trovate citate presentate brevemente dentro nel diccomp 2.2 nel rapporto uno è il diccomp into action un altro è il diccomp at work e le sue relative guidelines che presentano soprattutto esperienze di chi in giro per l'Europa e non solo sta usando questo framework nelle contesti con gli utenti nelle situazioni più vari quindi una fonte di ispirazione molto ricca c'è poi un report che si chiama DICOMSAT che riguarda il mondo della valutazione che è una ricerca che ha fatto la commissione europea per identificare sono state identificate 82 domande diciamo così di autovalutazione autoriflessione che fanno fare un percorso su tutte le 21 competenze del DICOM che sono state ripresi in uno strumento che ha sviluppato AllDigital con i suoi partner a cui ha contribuito anche Repubblica Digitale per la versione in italiano che si chiama MyDigiskills che trovate online e qui vedete i link ai diversi documenti e infine volevo evidenziare riprendere questo questo aspetto perché è molto sottolineato nel DICOM 2.2 l'importanza quando si lavora soprattutto in chiave educativa sulle competenze sulle competenze chiave di vederle nella loro interrelazione quindi qui abbiamo fatto nella produzione del report abbiamo messo in evidenza dove ci sono degli intrecci quindi vedete nel DICOM 2.2 per esempio gli esempi 4, 53, 55 eccetera sono quelli dove si parla di competenza digitale ma anche di competenze Life Comp le 237 239 242 che sono non a caso tutte racchiuse sotto la competenza 5.3 che è quella dell'uso creativo del digitale rimanda a competenze che sono anche quelle richiamate dall'Entre Comp sulle competenze imprenditoriali e così via per quanto riguarda le competenze di cittadinanza e espressione culturale questo qui finisco ho cercato di darvi un po' un quadro d'insieme non sono andato nei singoli aspetti salvo uno per farvi capire un po' il ragionamento sull'importanza su come guardare a questo rapporto quindi come una fonte di ispirazione molto ricca ma da non prendere così com'è e applicare perché non funziona non è giusto e non è il modo corretto di utilizzarlo interrompo la condivisione e ripasso la parola a Roberta perfetto grazie molto Stefano grazie anche per questo benissimo questi voglio dire questa parte finale proprio su come utilizzare Digi Compay Framework in generale questo sicuramente era una delle domande che almeno a me personalmente a molti dei partecipanti venivano in mente ascoltando proprio la tua presentazione vi ricordo che le slide di Stefano Kluzer saranno disponibili sulla scheda di eventi PA quindi tutti i link che ci ha fornito li troverete su eventi PA allora a questo punto non sono nel frattempo Stefano non sono arrivate domande per te solo commenti di complimenti e di ringraziamento quindi se comunque i partecipanti avranno domande vi ricordo mettetele scrivetele in chat oppure nelle domande risposte e poi ve le faremo le porremo ai relatori alla fine a questo punto lascio la parola a Sandra Troia con la quale vediamo quindi in particolare l'uso di DigiComp per la creazione di moduli didattici sulle competenze digitali prego Sandra grazie io farei partire chiederei a Gianluca correttamente di far partire l'altro sondaggio avevamo avviato un altro sondaggio ecco qui allora nel sondaggio cosa vi chiediamo vi chiediamo di riflettere su qual è il vostro comportamento prima di condividere un'informazione in rete ne verifichi l'attendibilità raramente solo quando ho dei seri dubbi lo farei più spesso ma non sempre ho abbastanza tempo non condivido alcuna informazione senza averla verificata personalmente il secondo quesito riguarda invece uno dei seguenti esempi della competenza 1.2 tratti dal DigiComp è sbagliato allora emerso dal sondaggio precedente che probabilmente non tutti hanno una forte dimestichetta con il framework ma sentitevi liberi di rispondere anche con l'idea di interrogarvi quindi sa che il termine Deep Fate si riferisce a immagini video o audio di persone eventi o eventi non reali o eventi scusate non reali generati dall'intelligenza artificiale è consapevole che i dati su cui si basa l'intelligenza artificiale non contengono distorsioni ad esempio derivanti da pregiudizi basati su stereotipi di genere sa che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale possono fornire non solo l'informazione desiderata dall'utente ma anche messaggi con finalità commerciali o politiche quindi ci diamo giusto un minuto per rispondere appena è pronto il l'esito del sondaggio lo commentiamo insieme sandra hanno risposto oltre la metà dei partecipanti quindi quando vuoi possiamo terminarlo sì va bene d'accordo allora prima di condividere le informazioni in rete le verifiche e l'attendibilità raramente solo quando ho dei seri dubbi lo farei più spesso ma non sempre abbastanza tempo condivido alcune informazioni senza averla verificata personalmente la maggioranza dei rispondenti che ha questo questo tipo di approccio un approccio giustificato perché è un approccio che consente di contrastare la misinformazione cioè la diffusione di informazioni non corrette che non verrebbe fatta con un intento di nuocere chiaro ma che naturalmente comporta una condivisione dell'informazione se non corretta che crea che crea una confusione che crea potrebbe anche creare dei danni pensiamo alla diffusione di informazioni nel periodo covid su come curarsi su come comportarsi andiamo a guardare la seconda domanda e vediamo che la risposta più gettonata è stato è consapevole che i dati su cui si basa l'intelligenza artificiale non contengono distorsioni derivanti da prodotti basati su stereotipi di genere ed è molto interessante questa risposta perché anche se le altre ecco non c'è una grande differenza con le precedenti opzioni ci porta a riflettere sul fatto che noi ci fidiamo dell'intelligenza artificiale ehm come se l'intelligenza artificiale dovesse agire necessariamente per il nostro bene ma non è detto che sia così l'intelligenza artificiale ha alle spalle un progettista e questo progettista può utilizzare l'intelligenza artificiale per implementarci per venderci un prodotto oppure può eh commettere qualche errore perché porta un retaggio personale quindi immaginiamo se tutti questi progettisti hanno lo stesso background culturale sono tutti maschi sono tutti eh educati in scuole eh che risiedono in Europa probabilmente porteranno delle distorsioni o porteranno dei pregiudizi delle quali dei quali noi vogliamo essere positivi non sono consapevoli ma il fatto è che ognuno di noi eh vede il territorio a seconda degli occhiali che sta indossando quindi tutti noi leggiamo il territorio con una mappa personale quindi adesso andiamo a approfondire il tema della creazione di moduli didattici sulle competenze digitali eh naturalmente quando parliamo di eh progettazione didattica ci riferiamo sia al mondo della scuola scuola che è sempre di più ha un ruolo centrale la scuola che con l'educazione civica eh che è diventata obbligatoria che ha il proprio interno un nucleo tematico che si chiama cittadinanza digitale ha portato la propria attenzione sull'importanza della competenza digitale competenza digitale che è una competenza chiave come diceva Stefano è tra le otto competenze chiave europee quindi tutti i cittadini devono possederle non essere competenti digitali che si equivale oggi a non saper scrivere a non saper leggere del passato d'altra parte anche l'esperienza della pandemia ha fatto sì che la nostra scuola diventasse una scuola dove l'elemento digitale si è integrato fortemente con l'elemento analogico quindi la didattica diciamo tradizionale d'aula adesso è completata si integra con quella in ambiente analogico con gli strumenti del digitale abbiamo parlato infatti di emergenza di didattica a distanza poi abbiamo parlato di didattica digitale integrata cioè un'integrazione quando si è parlato prima di lavoro ibrido ecco è una didattica ibrida che integra questi due elementi questo tipo di fare didattica naturalmente non lo lasceremo anche dopo aver superato l'emergenza sanitaria perché non fa parte soltanto di una risposta a uno stato emergenziale certamente questo stato ci ha costretti ad accelerare i tempi ma questo nuovo modo di fare didattica è espressione di nuovi bisogni formativi degli utenti che naturalmente sono degli utenti che sono nati con il digitale che vivono immersi nel digitale quindi necessariamente hanno bisogno di esperienze di apprendimento in cui il digitale si è integrato come è integrato nelle loro vite Stefano la mia presentazione vedrete è in continuità con quella di Stefano quindi nel Ditch Comp 2.2 si parla di quadri di riferimento proprio perché l'idea di questa pubblicazione oltre a presentare la novità che come abbiamo detto riguarda gli essenti di conoscenze abilità e attitudini ma l'impostazione era quella di creare una visione di insieme favorire una visione di insieme per cui si parte dalla definizione di questi quadri di riferimento come strumento per comprendere alcune competenze per fissare un vocabolario comune che questa questa visione questo vocabolario sono intesi come un terreno comune su cui possono collaborare varie realtà quindi dagli utenti alle istituzioni ai decisori politici a chi si occupa di formazione chi la organizza chi la eroga proprio per formulare delle politiche definire degli obiettivi fare pianificazione fare monitoraggio valutare quindi vediamo che accanto a questa io ho inserito accanto a comprensione vocabolario il diggomp proprio perché oggi noi ci focalizziamo sul tema delle competenze digitali ma le competenze digitali non riusciamo mai a prenderle in prenderle da sole perché sono una competenza trasversale che è strettamente intrecciata ad altre competenze come abbiamo visto altre competenze non solo chiave ma altre competenze che possono essere come per esempio quella descritta dal green comp che è un nuovo nato nei framework che descrive la competenza legata al green oppure la competenza digitale che noi utilizziamo per descrivere valutare la competenza dei cittadini e oggi anche degli studenti può essere declinata anche come competenza per chi utilizza il mercato online che è una delle aree di sviluppo non solo europee ma mondiali e quindi abbiamo l'integrazione di comp e di consumer oppure integrazione tra il di comp e l'entre comp in molti paesi purtroppo molti di questi in guerra come l'ucraina sono già avanti rispetto all'integrazione del curriculum del modello di comp con l'entre comp perché perché ci sono stati dei progetti sempre su spinta dell'europia della sì dell'ETF l'European Training Foundation che hanno promosso l'utilizzo integrato di questi strumenti e di questi modelli e poi abbiamo il life comp che quindi come diceva Stefano descrive le competenze personali sociali e imparare ad imparare pensiamo semplicemente a essere competenti digitali senza essere capacità senza essere capaci di provare empatia quindi stiamo leggendo di violenze che si stanno verificando nel metaverso quindi è come se noi all'interno del digitale riteniamo di dover mettere da parte quelle che sono le nostre competenze sociali quindi l'empatia l'ascolto dell'altro il rispetto dell'altro non è così quindi è molto importante quando si progettano esperienze di apprendimento riuscire ad integrare partire dal l'each comp ma integrare anche altre competenze e quindi possiamo farlo utilizzando degli elementi comuni che sono proprio questi altri quadri di riferimento ecco questa è l'immagine che io ho del digitale come rete intrecciata con le altre competenze quindi gli utenti le istituzioni gli intermediari gli sviluppatori come detto in precedenza non prendono come oro colato quello che è detto nel DICOMP però certamente ci fanno affidamento perché perché il DICOMP nella sua prima edizione quindi quello che noi possiamo chiamare il DICOMP 1.0 nasce come meta framework cioè nasce dalla raccolta e confronto di tutte le buone prassi europee ed extraeuropee per cui chiaramente non è europolato ma certamente è il meglio che era tra virgolette sul mercato e questo meglio è stato discusso attraverso un processo che ha coinvolto esperti del settore consultazioni quindi ha coinvolto sia esperti dall'alto ma anche con la consultazione tutti hanno potuto esprimere condividere il proprio punto di vista quindi questo partendo da questo modello noi andiamo a utilizzarlo per definire dei programmi di studio dei moduli didattici naturalmente tutto adeguando a quello adeguando sempre la nostra azione al bisogno formativo del target vi ripropongo una schermata tratta dal 2.2 in cui la nostra attenzione sarà rivolta sulla dimensione 2 quindi ripetiamo dimensione 2 è la dimensione nella quale io ritrovo la denominazione della competenza specifica e poi ho la dimensione 3 che invece la dimensione nella quale viene presentata la declinazione per livelli di padronanza quindi dal livello base all'altamente specializzato nella dimensione 2 io trovo non solo la denominazione ma trovo anche la descrizione nella dimensione 4 invece è quella che appunto è stata aggiornata trovo gli esempi e anche questa è una dimensione che ci tornerà utile quindi trovandosi a dover progettare creare dei moduli didattici possiamo sperimentare vari approcci possiamo partire dalla descrizione della competenza quindi andare a prendere il modello il modello è accessibile attraverso QR code per semplicità e leggendo dopo il titolo la descrizione andiamo ad individuare i subcomponenti i temi questo QR code e questa questa immagine è stata tratta dalla ricerca di ComSat della quale Stefano prima ha parlato quindi che cosa abbiamo fatto quando abbiamo operato in questa ricerca siamo partiti proprio dalla lettura della descrizione della competenza e poi abbiamo individuato i subcomponenti o i temi quindi vedete 1.1 quindi sono nella competenza 1.1 però questi primi 4 item questi 4 righe sono le diverse i diversi componenti che abbiamo individuato all'interno della descrizione della competenza 1.2 così come abbiamo fatto per la 1.2 quindi abbiamo suddiviso in 2 e per la 1.3 ecco qui riusciamo a vederlo meglio quindi dimensione 2 cosa trovo trovo questa è la traduzione in italiano a cura dell'agid nella dimensione 2.2 trovo il titolo della competenza che è valutare dati informazioni e contenuti digitali quindi da questa descrizione quindi adesso voi la vedete già separata ma è una descrizione unica abbiamo suddiviso in due parti questa descrizione quindi nella prima parte è analizzare confrontare valutare in maniera critica la credibilità e l'affidabilità delle fonti dei dati delle informazioni dei contenuti digitali in questa prima parte la parola che deve attrarre la nostra attenzione è fonti quindi ci concentriamo sulle fonti la seconda parte che è molto simile in quanto parla sempre di analizzare interpretare valutare in maniera critica però porta la nostra attenzione a considerare non più la fonte ma il dato stesso l'informazione e i contenuti digitali infatti come vedete quando abbiamo scisso abbiamo operato proprio questa suddivisione che vi ho appena presentato altro elemento che ci può essere d'aiuto nella fase della progettazione è quello di andare a consultare il modello andando a leggere gli esempi le descrizioni più che gli esempi le descrizioni della dimensione tre legate ai livelli di padronanza quindi vedremo che per gli otto livelli abbiamo una descrizione sintetica abbastanza generale quindi siamo sempre nella competenza uno punto due legata alla valutazione del dato quindi a livello base quindi con l'aiuto di qualcuno sono in grado di a livello base li ho assimilate perché la parte successiva la parte descrittiva rimane la stessa cambia tra l'uno e il due il livello di autonomia nel livello base uno ho bisogno dell'aiuto di qualcuno sempre al mio fianco nel livello due base riesco ad avere un certo grado di autonomia ma ho bisogno di sapere che se ho bisogno di aiuto posso chiederlo a qualcuno che è vicino a me se sono un docente immaginiamo se sono un formatore immaginiamo uno studente un allunno che riesce a portare avanti un compito solo se ci ha presenti in aula o se siamo in un'aula online in un ambiente online sa di poterci contattare per chiedere supporto invece nel primo caso è lo studente l'allievo che ha bisogno di un affiancamento continuo quindi detto ciò che cosa riesce fare con l'aiuto o con una certa autonomia rilevare la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati informazioni e contenuti digitali quindi vediamo che quando dobbiamo abbinare un'attività eh una azione del modulo didattico eh dobbiamo definire che cosa fa e quindi qual è il livello di difficoltà anche la lettura del del framework rispetto a questo tipo di esempi di descrizioni ci guida eh naturalmente tutto è modificabile tutto è migliorabile però ci dà una prima indicazione sul fatto che il primo step dovrebbe essere legato proprio di difficoltà alle fonti mentre nel secondo step vediamo dimensione tre livello intermedio il soggetto da solo risolvendo problemi diretti è in grado di eseguire l'analisi il confronto eccetera eccetera delle fonti e dei dati informazioni e contenuti digitali quindi riesce a coprire i due punti in cui noi abbiamo suddiviso la descrizione univoca della dimensione due quindi nella dimensione quattro come avevamo detto eh come Stefano ha presentato noi abbiamo l'opportunità di rivedere una serie di di ritrovare una serie di nuovi temi e fenomeni eh non li andiamo a rileggere eh e naturalmente sono stati suddivisti in conoscenze quindi eh io conosco sono consapevole quindi sono informato di fatti principi teorie eh oppure le schillagisco perché ho 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 quella conoscenza eh ho la capacità di utilizzare il pensiero logico il pensiero creativo ma naturalmente ho necessità di poter contare su una base di conoscenze e poi abbiamo le attitudini in molti non tutti ma in molti ehm costi attività e l'attenzione all'attitudine è un'attenzione davvero residuale eppure è alla base di ogni azione allora noi eh proprio leggendo quella che è la dichiarazione della competenza digitale che Stefano ci ha fatto descriviamo la competenza digitale con un incipit che mostra interesse quindi ha una propensione un'attitudine curioso è aperto a per cui ehm quando andiamo a progettare dei moduli non lasciamo in secondo piano oppure non ignoriamo il l'importanza dell'attitudine tant'è che l'attitudine è presente nella prima edizione del Ditchcom nella seconda e nei successivi aggiornamenti quindi questa è dimensione la dimensione quattro che appunto quella aggiornata è per noi non solo un eh repertorio di esempi di conoscenze abilità e attitudini che è molto utile a far cosa è molto utile a ehm riuscire a eh cogliere ehm con maggiore dettaglio il significato della descrizione l'interpretazione di una competenza e d'altra parte eh è un esempio è un repertorio importante di nuovi temi nuovi scenari che sono interessanti perché? Perché parlano del quotidiano perché se noi li leggiamo come si parlava prima delle degli strumenti che si indossano io mi sono sentita osservata a noi noi tutti guardiamoci addosso abbiamo il contapassi l'applicazione del contapassi abbiamo eh magari eh la smartwatch o il ehm il sensore che eh monitorano monitora i nostri dati per cui tutti questi contenuti tutto quello che noi facciamo è come se venisse riportato qui per cui sono tutti temi che aiutano a creare dei moduli formativi in cui al centro c'è il eh il soggetto c'è il suo quotidiano ma anche il suo futuro perché perché non tutti vivono in realtà in cui eh c'è disponibilità di tecnologie o eh di altre di altre opportunità però parlare di queste cose in classe che sia la classe scolastica che sia la classe della formazione continua noi siamo destinati ad apprendere per tutta la tutto l'arco della nostra vita ci è molto utile per cui molto utile per cui questi esempi diventano esempi eh legati ad una valenza orientante dell'azione didattica il tema della misinformazione e disinformazione quindi ehm uno dei maggiori ehm pericoli che stiamo vivendo è quello della disinformazione eh abbiamo detto la misinformazione è una condivisione eh non eh una una condivisione eh di informazioni che noi non che faccio che noi facciamo eh in maniera maldestra in maniera superficiale quindi condividiamo delle delle notizie dei post magari senza averli verificati la disinformazione invece è un'azione eh voluta programmata pericolosissima che mina la democrazia ehm tutti questi temi come diceva eh mi anticipava Stefano io chiedo ehm aiuto a Roberta perché tra le mie eh tra le mie doti non c'è quella di riuscire a tenere il tempo quindi mi si stoppi quando è necessario sei tranquilla Sandra tra l'altro purtroppo abbiamo avuto informazione del fatto che l'ultimo previsto relatore ha avuto un problema e non ce la fa partecipare quindi siamo un po' lunghi con i tempi ma siamo siamo nei tempi diciamo possiamo finire ora sono le 15.48 la chiusura prevista era alle 16 quindi puoi prenderti ancora qualche minuto e poi lasciamo 10 minuti per rispondere alle domande 8-10 minuti perfetto vai perfetto grazie grazie quindi dicevo che eh come diceva Stefano il piano d'azione per l'istruzione digitale che noi dobbiamo tenere presente proprio perché nella progettazione noi non dobbiamo guardare in solo il nostro contesto dobbiamo contestualizzare ma dobbiamo far parte di una strategia comune noi abbiamo adesso la strategia nazionale per le competenze digitali la strategia europea l'agenda europea per cui anche nella scuola nella formazione noi dobbiamo guardare l'orizzonte comune gli obiettivi comuni in questa iniziativa qual è l'obiettivo adeguare la sostenere l'adeguamento sostenibile efficace dei sistemi di istruzione e formazione degli stati membri all'era digitale e quindi sono state previste due priorità una priorità riguarda l'ecosistema educativo digitale e l'altra la il miglioramento della capacità e delle competenze digitali quando andiamo a leggere questo documento ci rendiamo conto che effettivamente il DICOMP 2.2 è una risposta questo ci spinge ancora più a considerarlo un modello di riferimento infatti di che cosa di che cosa si parla si parla di alfabetizzazione digitale compresa la lotta la disinformazione ripeto tematica di grande attualità pensiamo alla guerra alla quale tristemente stiamo assistendo che è una guerra che si combatte sul campo ma si combatte con l'informazione e non con la misinformazione con la disinformazione proprio perché le due parti utilizzano l'informazione per influenzare per per appunto per perseguire dei progetti degli obiettivi molto chiari nella loro testa poi abbiamo io ho messo in evidenza le cose che potevano più interessarci una buona conoscenza e comprensione delle tecnologie ad alta intensità di dati come l'intelligenza artificiale quindi il il tema dei dati che ormai vengono raccolti su ogni azione che noi facciamo proviamo a prendere il nostro smartphone e a consultare e a consultarlo semplicemente per capire qual è l'app che abbiamo utilizzato più di frequente quanto tempo abbiamo dedicato ad un app piuttosto che un'altra quanti passi abbiamo fatto quanto abbiamo dormito quindi tutti i dati che ci che ci vengono che vengono raccolti naturalmente il fatto che si vengano raccolti e questo dovremmo spiegarlo nei contesti formativi non è un male in assoluto perché è proprio grazie alla raccolta del dato che io posso avere un servizio personalizzato io posso avere un servizio che risponde ai miei disogni ma naturalmente io devo sapere che questo sta accadendo che qualcuno qualcosa mi sta osservando e che l'intelligenza tra parentesi che tra molte virgolette che gestisce questi dati non non potrebbe non essere in buona solo in buona fede allora andiamo a guardare piano dell'istruzione dell'istruzione digitale azione 7 quindi le competenze necessarie per il 21 secolo identificazione dei fatti tratti da informazioni false riuscire a fare il fact checking a controllare l'informazione gestire il fatto che noi siamo subistati di informazioni e poi cercare avere gli strumenti le conoscenze le competenze le l'attitudine per garantire una garantirci una navigazione sicura sul tema della disinformazione è stato attivato un gruppo a livello di commissione europea un gruppo di esperti proprio con la missione di definire delle indicazioni delle linee guida da fornire agli educatori ai docenti per guidare gli studenti a leggere a riconoscere la problematica della disinformazione e a quindi operativamente riuscire a a difendersene quindi la cosa interessante sull'intelligenza artificiale noi dobbiamo e quello l'istruzione digitale dell'azione 8 conoscere l'intelligenza artificiale e qual è l'obiettivo saperla utilizzare e quindi riuscire a utilizzare tutti i sistemi che sono guidati dall'intelligenza artificiale ma anche comprenderla sia nelle sue potenzialità sia dei limiti di cui abbiamo parlato e quindi se andrete a leggere le varie i vari esempi ecco io mi fermerei veramente a questo ma lascio la la presentazione e ritroverete gli esempi sia per le conoscenze che per le abilità che per le attitudini vediamo che una conoscenza comprende cioè proprio l'esempio è questo di conoscenza comprende la differenza tra disinformazione e quindi ci dà una descrizione una definizione della disinformazione sono informazioni false con l'intento di ingannare le persone e poi la differenza tra disinformazione e misinformazione informazioni false senza l'intento di ingannare o scordiare le persone quindi io faccio misinformazione quando siamo in tema siamo pronti per le spiagge condivido per esempio una dieta miracolosa che poi magari non parà di magrire nessuno e in questo caso siccome non l'ho fatto per nuocere a qualcuno ma l'ho fatto semplicemente per superficialità ho fatto misinformazione e non disinformazione la cosa che è da sempre tenere presente è che noi stiamo parlando di competenze Stefano ha introdotto il suo intervento descrivendo che cos'è la competenza quindi la competenza va osservata per essere osservata quando progettiamo dobbiamo progettare delle esperienze di apprendimento con dei compiti concreti che vengono affidati a chi deve apprendere a chi è protagonista di questa esperienza perché soltanto l'osservazione della competenza agita ci consente di valutarla altrimenti facciamo altro cioè se noi sottoponiamo solo un test andiamo a valutare la conoscenza ma non la competenza che appunto l'unione della conoscenza della abilità e dell'attitudine quindi dobbiamo osservare chi apprende in questo processo quindi come vi dicevo troverete nella presentazione che appunto sarà a vostra disposizione alti esempi sempre che richiamano sull'attenzione a creare esperienze di apprendimento allora Roberta davvero mi taccio eccoci perfetto Sandra no sei stata per carità sei sei stata chiarissima e hai approfondito un sacco di aspetti che effettivamente se non si fanno degli esempi invece così concreti poi le le cose restano molto teoriche allora in realtà approfitto che sei che ci sei tu qua perché una delle domande che hanno fatto visto che Stefano ha già risposto in chat è quando sarà disponibile la traduzione in italiano del Digicomp 2.2 Stefano diceva a fine estate cosa eh speriamo sì ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando e naturalmente ci stiamo focalizzando sulla traduzione degli esempi perché le altre parti sono già tradotte quelle che costituiscono il framework sono già state tradotte dall'Agid quindi noi ci concentreremo in prima battuta sugli esempi e sugli allegati sugli annex e successivamente forniremo la traduzione completa sì i tempi vi terremo aggiornati vi terremo aggiornati in ogni caso noi sicuramente ci terremo compagnia tutti sino a oltre la metà di luglio quindi comunque ci chiederemo aggiornamenti Sandra torneremo a chiedere volentieri allora poi c'era una domanda per Stefano quella la ripetiamo perché magari può interessare a qualcuno Stefano chiedevano se fosse disponibile una versione Digicomp 2.2 per la sanità allora no la risposta è no però diciamo che allora io so di un progetto per cui Giancarlo De Leo gli ho già promesso che gli manderò lo metterò in contatto un progetto in cui tra l'altro è coinvolto anche un partner italiano che sta lavorando proprio sul costruire un framework di competenza sugli aspetti salute della salute per i cittadini quindi non tanto in chiave professionale ma in chiave di cittadinanza e se ricordo bene con due profili uno il giovane cioè la competenza digitale per i giovani e uno invece per le persone anziane quindi che hanno anche rapporti con la salute con le soluzioni mediche diverse eccetera ci stanno lavorando partendo dal DICOMP e comunque nella DICOMP quindi la comunità di pratica che ha dentro in questo momento circa 600 partecipanti di tutto il mondo letteralmente ci sono diverse persone che hanno scritto dicendo segnalando interesse su questo tema cioè della competenza digitale in ambito sanitario poi in genere non specificano appunto se si tratta dell'operatore sanitario la competenza digitale del medico la competenza digitale del cittadino quindi da che parte guardiamo l'argomento però è sicuramente un tema di interesse e comunque comunque no ecco la risposta è che non esiste però potrei aggiungere questa cosa D Sandra giustamente ha citato il DICOMP per i consumatori ecco sono state fatte e sono molto ben viste anche dalla Commissione Europea iniziative di declinazione dei framework partendo dal DICOMP come modello di riferimento su ambiti anche di tipo professionale per cui professionale o comunque diciamo nel caso del consumatore non è una professione però diciamo ambiti contesti d'uso molto riconoscibili almeno l'esempio più noto è il DICOMP edu quello che è stato sviluppato per gli educatori quindi per gli insegnanti o comunque i formatori però c'è quello per i consumatori e c'è varia gente che sta lavorando dentro nel DICOMP at work che non è tradotto in italiano dentro in quel report ci sono diversi casi studio di soggetti che hanno sviluppato delle quelli che abbiamo chiamato profili professionali digitali quindi quali sono le competenze digitali che deve avere un per esempio non so operatore museale oggi o un quindi volendo qualunque professione oggi uno può può guardare questa cosa e di solito chi ci ha lavorato sopra mette insieme degli elementi che vengono dal DICOMP perché ci sono delle competenze DICOMP che sono anche significative nel contesto lavorativo e poi aggiungono delle competenze specifiche a volte prese dall'ECF dall'European E-Competence Framework che è quello diciamo che guarda le competenze digitali più dal punto di vista professionale ma anche integrando insomma è un tema molto interessante affrontato perché se uno mette da parte il mondo delle professioni dell'ICT dell'informatica insomma anche ingegneristica e così via che lì sono invece ben definite normate ci sono degli standard di riferimento su che competenze deve avere uno che si qualifica come analista o come programmatore o come altri ruoli tutto il mondo del lavoro che oggi si sta trasformando col digitale è un'area grigia dove non ci sono dei framework di riferimento anche perché sarebbe un migliaia e quindi c'è insomma ci sono delle esperienze interessanti in atto chi fosse interessato ad esplorare questa cosa suggerisco la lettura del D-comment worker che presenta alcune esperienze interessanti perfetto grazie Stefano e allora chiaramente alcuni ancora in chat chiedono se sarà disponibile la registrazione e le slide e vi ricordo che sì sulla scheda di eventi PA dalla quale vi siete iscritti trovate la registrazione e anche le slide con tutti i link che hanno fornito i nostri relatori allora non so Sandra c'erano delle c'era qualche commento in chat sul fatto che di queste attività sarebbe c'è molta necessità nella scuola nessuno più di te credo concordo 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 ma è una macchina ma è una macchina che si è messa in movimento basta esplorare la piattaforma scuola futura per vedere che grazie al piano nazionale scuola digitale che ormai ha i suoi anni ma adesso ha preso come tutti noi dopo l'emergenza sanitaria uno slancio si parla di DICOMP si parla di DICOMPEDU che a proposito di piani di modelli di riferimento settoriali descrive la competenza digitale dei professionisti della formazione dell'istruzione quindi sono presenti una serie di corsi destinati ai docenti monitorati perché adesso le piattaforme come sappiamo le piattaforme di formazione gestite a livello pubblico sono accessibili attraverso lo SPID quindi consentono una documentazione archiviazione quindi valorizzazione di tutte le esperienze di formazione c'è lo staff dell'equip formative territoriali che sta promuovendo questa forma di innovazione qualche meno di una settimana fa c'è stata didacta per cui certamente la scuola è in fermento su questi temi solo che naturalmente essendo una grande realtà è diversificata e quindi ci stiamo organizzando però c'è veramente molto fermento grazie Sandra allora a questo punto ringrazio anche i partecipanti perché molti si stanno rispondendo tra loro insomma c'è qualcuno che inserisce informazioni utili e interessanti a questo punto non mi resta che dare appuntamento a tutti per martedì prossimo sempre quindi martedì 7 sempre alle 14 e 30 parleremo del tema della valutazione delle competenze digitali che come sapete come dire la valutazione è una cosa che in un percorso formativo dovrebbe procedere proprio tutta la fase di progettazione quindi oggi se ne parla molto ci sono già molti strumenti anche molti propri ispirati al Digicomp e quindi vedremo ne vedremo alcuni a questo punto vi do appunto aiuto a martedì prossimo ringrazio i relatori grazie anche a Nello Iacono che non vedo in video eccolo perfetto allora grazie a tutti ancora arrivederci buonasera grazie a tutti